gentili telespettatori buona giornata il consiglio dei ministri che oggi doveva riunirsi per parlare del caso il va il disastro governativo fatto a taranto alla ciaieria più grande d'europa la exit al sider non si riunirà il consiglio dei ministri di oggi spostato a data da destinarsi si dice da fonti ben informate che il capo del governo giuseppe conte e la famiglia mittal i proprietari che dovevano comprare l'acciaieria si incontreranno a breve i due non smentiscono e non dicono nulla ma la quello che si quello che è chiaro è che voi sapete che c'è il poliziotto buono il poliziotto cattivo in questo caso il poliziotto cattivo e l'amministratore delegato luciana lucia morselli il poliziotto buono lo fanno la famiglia mittal che va a parlare ma l'amministratore delegato la signora lucia dice a me pagano per riconsegnare le chiavi io devo riconsegnare le chiavi dell'acciaieria punto e basta non dovete trattare con me non discuto d'altro io devo solo riconsegnare l'azienda allo stato che ne è il legittimo proprietario perché i commissari straordinari chi sono funzionari dello stato ma quello che io avevo subito detto come si fa a fare una trattativa quando partono le denunce attenzione i primi a denunciare sono stati i commissari e lo stato perché la famiglia mittal depositava il la rinuncia non è una denuncia la rinuncia la rinuncia è l'uscita unilaterale di una delle due parti che ritiene nullo il contratto per violazione contrattuale in adempienza contrattuale aver disatteso una delle clausole quindi al tribunale di milano la famiglia mittal ha depositato il recesso contrattuale per giusta causa giusta causa la prima denuncia è arrivata dai commissari commissari sono lo stato denunciano la mittal perché non può ricedere ma con denuncia e poi arriva la denuncia della tribunale di milano che si si mette come parte civile per tutelare gli interessi nazionali quindi chi è che ha denunciato per primo è lo stato mentre proprio il giorno dopo del primo incontro tra la famiglia mittal e giuseppe conte io ho subito detto ma come si fa adesso a fare una trattativa quando partono le denunce quando partono le denunce ormai parlano solo gli avvocati non c'è più da fare nessuna trattativa ma il filo è proprio un filo si parla quello che è la trattativa tra stato e mittal non è proprio una trattativa c'è stato un incontro lo stato ha continuato ad immaginare che ci fosse una trattativa adesso la famiglia mittal deve rispondere in 48 ore aveva detto conte e qui ha detto sì devo risponderti in 48 ore ma non ti rispondo proprio io non sono tenuto a risponderti infatti non hanno più risposto mentre il piccolo conte diceva dovete rispondere in 48 ore non hanno mai risposto non vi permettete e si sono permessi perché c'è comunque in ambienza contrattuale da parte dello stato poi sì la mittal voleva comprarla per chiudere voleva il piano industriale non andava bene era stato pensato male oppure ci sono elementi nuovi che che fa che cambiano il piano industriale perché non si può più produrre sei milioni di tonnellate ma solo quattro e mezzo che le condizioni economiche sono cambiate e lo stato gli ha aperto una porta per poter uscire una uscita assolutamente legale quindi questo filo di trattative che lo stato vuol vedere in realtà non c'è probabilmente non esiste questo filo di trattative e da quello che si capisce la prima volta che la famiglia mittal ha parlato con conte sembrerebbe che gli abbia detto ma guardi se voi rimettete ancora lo scudo penale l'avete tolto due volte e lo rimettete due volte che credibilità avete come governo cioè non siete credibili io faccio un governo un contratto con un governo che mi cambia le carte in tavola più volte ma patrizio bianchi che è un esperto di politiche industriali assessore in emilia romagna che ha già trattato con lucia morselli per il berco di ferrara ristrutturazione della berco di ferrara dice visto che parliamo dell'acciaieria più grande d'europa bisognerebbe fare bisognerebbe coinvolgere in questo anche l'unione europea se no si corre il rischio poi di imbattersi nell'europa che dice ah ma questo è un aiuto di stato ma non si dovrebbe fare aiuti di stato magari in qualche multa eccetera eccetera quindi secondo lui è meglio dialogare con l'europa cercare che l'europa intervenga piuttosto che cadere nella trappola degli aiuti di stato intanto all'ilva oggi ci sono i fornitori alla portineria c quelli che non sono stati pagati che non sono stati pagati per 200 milioni di euro di cui 50 sono dell'ultima gestione proprio arcero al mittale 150 milioni vengono da prima mentre poi c'è anche un consiglio di fabbrica dove i delegati dell'indotto si sarebbero propensi a decidere di disobbedire allo spegnimento degli alti forni cioè se non li spegnerebbero nessuno dovrebbe andare lì la signora il signor mittal a spegnere gli alti forni che non sono capaci cioè non può farlo non è come non è come schiacciare un interruttore spegne spengo la luce spento l'alto forno arrivederci grazie ci vogliono degli esperti e diversi esperti quindi l'idea è quella di rifiutarsi di spegnere gli alti forni e fermare gli impianti ma l'arcelo al mittal prevede di far scendere la temperatura degli alti forni dai 1800 gradi di attività ai 400 gradi ma il timore che quest'azione possa pregiudicare la ripresa della produzione che poi non si riesca più ad alzare la temperatura perché questi alti forni devono essere sempre costantemente accesi sono accesi da decenni senza mai essere stati spenti ma in fabbrica dicono beh 5.000 esuberi non è una tragedia ma perché dicono così non è una tragedia perché loro dicono esuberi magari vanno in cassa integrazione o magari ammortizzatori sociali ricollocazione per esempio nelle bonifiche dell'amianto potrebbe essere una soluzione accettabile cioè esuberi che però non sono esuberi dice vabbè non lavorano più qui ma lavorano da un'altra parte ma il lavoro da un'altra parte dietro questa frase ci vuole che altre aziende assumino 5.000 persone ma stiamo parlando di 5.000 non di 50 5.000 nella serata di oggi il presidente della repubblica potrebbe anche accettare anzi potrebbe sicuramente accetterà l'incontro chiesto d'emergenza dal dai sindacati cgl cisle e will proprio sull'emergenza dell'ilva ma di maio è è più più per una linea dura no dice piano b no li trasciniamo in tribunale facciamo prendiamo direttamente la linea giudiziaria quindi una un atteggiamento poco politico e molto decisionista immediato e mentre la procura di taranto e milano aprono un'indagine al momento contro ignoti per vedere e accertare un'ipotesi di reato sul disastro ambientale ed economico delle acciaierie pugliesi il governo conte che ha combinato questo patatracca perché se non avesse tolto l'immunità arcirolmità non poteva contrattualmente riconsegnare metaforicamente le chiavi dell'acciaieria non poteva quindi il governo conte 2 che ha provocato questo disastro e adesso spera che i magistrati risolvano quello che hanno combinato il pasticcio dell'ilva però a parte le azioni giudiziarie non c'è una soluzione politica si brancola nel buio intanto matteo salvini dice secondo me non bisogna rivolgersi agli avvocati ma bisogna risolvere il problema e di maio aggiunge arcero al mittal deve sentire le pressioni di tutti i cittadini del sistema italia parlare di piani sulla nazionalizzazione o altra accordata è un modo per dire puoi andare tanto abbiamo un'alternativa per me il piano abcd si chiama arcelon mittal e vedremo in tribunale non tra anni ma tra settimane quale sarà l'esito della procedura d'urgenza quindi il capo politico di 5 stelle boccia lo scudo penale chi parla dello scudo penale credo stia utilizzando un pretesto lo pensano anche gli italiani ma attenzione gli italiani non pensano che lo scudo penale sia un pretesto o meglio sì lo scudo penale è un pretesto ma voi gli avete aperto la porta per uscire legalmente gli avete dato la possibilità di utilizzare questo pretesto se no non potevano utilizzare questo pretesto primo quindi si dimentica luigi di maio di dire che la colpa di quello che sta succedendo è principalmente sua come capo politico del movimento che ha trascinato la maggioranza a votare per togliere questa immunità quindi la colpa è principalmente è assolutamente sua e c'è chi dice ma sono anni che tutti hanno delle cose no la colpa di quello che è successo dieci giorni fa è di luigi di maio del movimento 5 stelle e del governo che li ha seguiti se no arciano il mittal anche se le cose non andavano bene sarebbe ancora lì e non staremmo parlando di arciano il mittal perché loro starebbero continuando a produrre in perdita di 2 milioni al giorno e poi quando dice arciano il mittal deve sentire la pressione di tutti i cittadini del sistema ma quale pressione questa è un'azienda con che ha un fine ultimo del guadagno per i soci ma cosa vuoi che gliene frega della pressione di tutti agli indiani ma cosa vuoi che gliene frega di maio ancora probabilmente tu non hai mai lavorato in un'azienda non non sai che cos'è un'azienda un'azienda ha un solo obiettivo il risultato economico da dividere tra i proprietari punto e basta non gliene frega niente dei cittadini italiani e della disoccupazione che c'è a taranto nulla ma non perché sono cinici ma perché è così un'azienda ha un unico obiettivo il risultato economico vantaggioso il più possibile vantaggioso per i proprietari gli azionisti quindi parlare la pressione dell'italia i cittadini sono tutte fregnacce mentre stefano patuanelli dice grazie ai commissari per gli esposti forse quella più realista è lucida è nunzia catalfo ministro del lavoro che in un'intervista sky tg24 dice allora per il momento dobbiamo tuteliamo i posti di lavoro e si andrà avanti così in perdita per poi cercare delle nuove soluzioni tecnologiche riqualificare nel frattempo i lavoratori non si può far subito ora in emergenza e dopo si penserà a nuove tecnologie a medio lungo termine riqualificare pensando forse di portare la siderurgia verso altri tipi di produzione ecco questa è assolutamente la realtà che racconta il ministro del lavoro oggi è così si riprenderà l'ilva si andrà avanti e si cercherà di cambiare la produzione riqualificarla cambiare tipo di produzione magari con nuove tecniche questa è la pura e semplice realtà non ci sono piani abcd come dice di maio ma non c'è neanche archerol metal che torna c'è solo l'azienda che va avanti sulle spalle dello stato finché forse riuscirà lo stato a trovare una soluzione alternativa a questo disastro che ha creato vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video buona giornata arrivederci